ma è perché io ieri ho fatto 10 beh sì alla fine non abbiamo fatto niente ti spiro il codice c'è il video 4 massima erogazione 12 euro ti ci sta questo a te? si guarda com'è messo il mio, guarda com'è messo il tuo ne hai di più o di meno? ok beh dopo se vuoi sbagliarti non mi offendo no no non so non ma non c'è ma non c'è lei è un po' raffreddare lo zip poverino che mi sa che devo rimontare le carene quelle bucate dietro perché sennò per quest'estate non bastano e si è ingrassato adesso oggi siamo qua con il cinga e stiamo andando su montagna per chi è di verona stiamo andando verso le parti di velo san giorgio dimmi stiamo andando su perchè abbiamo una casa su quindi staremo su anche a dormire oggi se non sbaglio è il 15 aprile e c'è già un caldo assurdo poi come avrete visto negli ultimi video non ho più il cono per ora ancora vabbè sempre top nord con il 17 e mezzo e la scatola filtro avevo indeciso se mettere il cono oggi ma non ho avuto tempo purtroppo se no probabilmente l'avrei messo tanto per andar fin su ovviamente salendo e lo zip si è già scarburato in una maniera assurda infatti non va niente adesso saliamo più o meno a 600-700 metri non ha potenza è assurdo ma c'è la strada da roveré tutta quella bella asfaltata qua c'è tipo il biscottificio purtroppo non ho il video è assurdo è assurdo è assurdo è assurdo Grazie a tutti. Riccordi! Allora, il cinghio è appena caduto. Allora, danni. Buon? Poi è tutto qua. Però lì era già grattato. Sì, sì. Qua. Un po' qua. E basta. Ed è caduto lì dentro. Sì, è incantato. Verrando la carena. Basta, fino. Fa un sound stranissimo. Andiamo là all'ombra. Non voglio sentire il cilindro. Ma infatti ci dobbiamo fermare un attimo. Si è strasmarmintato. Sì. Accendi un attimo. Non lo vai? Boh. Ma gli invece basta rossa su carburazione diversa. Sì, sì. Ma infatti non vanno per quello. Anche il tuo azzaro. Non arriva neanche 60 in salita. Ma fatico. Ma è che è anche caldo adesso. Sì. Ora siamo qua in questo posteggio Che praticamente ci siamo solo noi C'è una macchina Ed è stupendo Qua ho imparato a impennare tra l'altro io Se vi trovo una foto Vi metto le mie prime impennate Con lo zip da campi di una volta Poi ho portato la macchina fotografica Come potete vedere che ho lo zaino Per fare le due tre foto dopo Per fare le due tre foto dopo I don't got time for no ho Per fare le tre foto dopo Per fare le tre foto dopo